Vedo che oggi sia stata una buona partita, una buona risposta sul campo rispetto a quello che è stato ieri, che sicuramente abbiamo subito troppi gol, siamo stati troppi passivi e per me personalmente oggi era un'occasione di riscatto. È andata bene, abbiamo girato bene tutta la squadra, abbiamo giocato tutti, compatti, duri in difesa dal primo all'ultimo minuto, forse potremmo sicuramente vincere con qualche cosa di scarto in più, in inizio e secondo tempo eravamo più 8, però ci siamo dimostrati che non siamo poi così male. Poi per il resto fare tanti stage come stiamo facendo adesso è molto buono, fare tutte queste amichevoli ci consente di confrontarci con un livello che non c'entra praticamente niente con il nostro, solo sul fatto di velocità e di intensità di gioco. E questo sicuramente ci farà crescere se continuiamo così con la testa giusta e con il cuore caldo.